Finalmente il papà di Sant'Arsenio tra una settimana potrà riabbracciare il suo figlioletto. Per il genitore, da tre anni privato del suo diritto dovere, dunque a brevissimo salvo nuovi colpi di scena, terminerà l'incubo iniziato quando la sua ex consorte venezuelana tre anni fa decise di portare il bimbo a Caracas. Un soggiorno che doveva durare pochi giorni, che invece si è protratto per tre lunghi anni. Uno stravolgimento degli accordi che dal 4 gennaio 2010 ha dato inizio ad una lunga e complicata battaglia giudiziaria, ma ora il peggio sembra essere passato, tanto che nel corso dell'ultima udienza per il divorzio si è giunti alla lieta notizia. In aula la quarantenne, così come intimatole dal giudice, ha garantito che il bambino tornerà dal papà martedì prossimo e a far data da quel giorno sarà temporaneamente affidato al solo papà. La donna, al rientro in Italia appena qualche settimana fa, era stata arrestata per sottrazione di minore all'estero e a distanza di qualche giorno rimesse in libertà dopo la decisione del riesame di Salerno. Unico provvedimento rimbasso in piedi a carico della mamma venezuelana il divieto di lasciare l'Italia, tanto che le è stato ritirato il passaporto. Ma ora l'augurio per tutti è che questa vicenda, che ha generato non poca prensione nell'intero vallo di Viano, possa essere soltanto un brutto ricordo e il bimbo possa gioire e godere dell'affetto di entrambi i genitori.